Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Nascondono la droga come si fa per i tartuffi nei barattoli con il riso, arrestate d'Urbania due albanesi Crisi demografica secondo l'Istat per le marche, i dati peggiori di sempre Pincio continuano i lavori e il tutto dovrebbe essere pronto per il 2 di febbraio Nel frattempo il comune organizza visite archeologiche sugli scavi Questa sera approda in consiglio comunale una delibera riguardante la realizzazione della clinica privata a Chiaruccia di Fanno Domenica 13 gennaio la tradizionale benedizione degli animali in piazza Fanno per Sant'Antonio Abate Buonasera, benvenuti a Occhio la Notizia Il Tg di Fanno TV in onda tutte le sere alle 20.30 visibile sul canale 17 in tutte le marche Partiamo con la cronaca, come di consueto andiamo a Urbania per un'operazione antidroga dei carabinieri Comunemente conosciuta da tutti, da molti come uno dei metodi migliori per conservare i tartuffi, la trifola Mentre questi due albanesi avevano ben pensato di invece conservarci la droga Sentiamo come è andata invece Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia di Urbino durante un servizio antidroga Hanno arrestato due fratelli di origine albanese di 40 e 35 anni Domiciliati in due differenti appartamenti nel comune di Urbania I militari della stazione di Urbania dopo numerosi appostamenti ed una indagine di tipo classico Hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti dei due insospettabili ed incensurati fratelli Impiegati apparentemente come operai nel settore edile Nella perquisizione, effettuata anche con cani antidroga del comando provinciale di Pesaro Sono saltati fuori nelle rispettive abitazioni più di 330 grammi di cocaina Nascosti in intercapedini, in cantina e dall'interno di barattoli di riso Cosa che ha generato non poco stupore nei militari La cocaina celata nel riso era tenuta così nascosta da occhi indiscreti Probabilmente in maniera analoga a quanto viene fatto per la conservazione dei tartufi Da quanto è stato poi ricostruito, infatti il mix coca e riso è stato utilizzato dai due fratelli Per preservare dall'umidità lo stupefacente Esattamente come si fa per il pregiato tubero Durante le perquisizioni, inoltre, non solo è stata trovata della sostanza già suddivisa in dosi Ma anche un'intera mattonella di coca ed un kit completo per il confezionamento e la pesatura Lasciando così presumere che vi fosse un vero e proprio mercato della droga all'interno delle due tranquille abitazioni A riscontro di tutto ciò i carabinieri hanno sequestrato un assegno circolare di 30.000 euro Rinvenuto all'interno di uno dei due appartamenti provento della redditizia attività illecita Frutto anche di diverse tranche e diversamenti fatti a più riprese E che visto il notevole volume d'affari fa presupporre essere i due restati Un vero e proprio punto di riferimento nella zona Per una vasta platea di tossicodipendenti Rete di clientela che ora i militari dell'arma stanno ricostruendo Gli arrestati nella giornata odierna sono stati giudicati con rito direttissimo presso il tribunale di Urbino Che ne ha disposto così gli arresti domiciliari E rimaniamo sulla cronaca perché questa mattina alcuni passanti ci hanno segnalato La comparsa di simboli nazifascisti sul portale principale della chiesa di Metaurilia lungo la statale 16 Le scritte effettuate con della vernice spray di colore bianco sono state fatte presumibilmente durante la nottata scorsa In quanto alcuni residenti del posto non ricordano di averle notate fino alla tarda sera di ieri Un gesto di uno sfregio alla chiesa poco frequentata Ormai che ha lasciato sbigottiti i residenti della zona Che da sempre invece rivendicano la loro vocazione antifascista della comunità Anche attraverso pubblicazioni ed eventi specifici La chiesa la cui prima pietra fu proprio messa da Benito Mussolini nel maggio del 1937 Fu ultimata nel 1939 ed intitolata a San Benedetto Come recita il suo motto posto al lato della grande croce bianca in carattere littorio, cruce e taratro E veniamo alla crisi demografica delle marche Secondo l'Istat ha raggiunto veramente dati allarmanti Forse i peggiori di sempre Il punto nel servizio di Stefano Mascioni E poi a seguire l'intervista con Simona Floridi La coordinatrice ostetrica di Marche Nord Che ci parla delle varie possibilità di parto nelle strutture Nelle Marche si fanno sempre meno bambini E nel corso del 2017 abbiamo toccato il minimo storico A certificarlo sono gli ultimi dati disponibili diffusi dall'Istat Che confermano la parabola discendente con il dato peggiore di sempre Appena 10.699 bambini Rispetto all'anno precedente sono nati 813 bambini in meno Pare a un calo del 7,1% Mentre nell'ultimo quinquennio sono diminuiti di 1964 unità Per un calo del 15,5% La crisi delle nascite è un fenomeno nazionale ormai strutturale Ma il trend di denatalità registrato nelle Marche È molto più alto sia di quello nazionale Sia di quello delle altre regioni del centro A diminuire sono sia i figli nati da coppie italiane Ma anche quelli nati da coppie straniere Che rappresentano circa il 9% del totale E se da una parte diminuiscono le nascite Dall'altra aumentano i decessi Che nel 2017 sono stati pari a 18.449 Quasi il doppio delle nuove vite E in forte aumento sia rispetto all'anno precedente Sia agli ultimi 5 A fine 2017 la popolazione marchigiana complessiva Ammontava a 1.531.753 abitanti Ovvero 6.302 in meno rispetto all'anno precedente E 21.385 in meno rispetto al 2013 Come dire che in un anno è sparito un comune come Pergola E in un lustro una città come Recanati E le cause non vanno ricercate nella scarsa qualità Dei servizi sanitari ostetrici e ginecologici Ma nel cambiamento sociale Che ha reso la procreazione una priorità meno sentita Infatti noi dal 2009 stiamo subendo una crisi economica Che si ripercuote soprattutto sul mondo giovanile Il mondo giovanile è quello che in natura È quello che deve procreare Deve creare praticamente il ricambio della società E noi abbiamo una popolazione over 60 Che è maggiore rispetto agli over 30 E ad aumentare è anche l'età media delle donne Che affrontano la prima gravidanza Una tendenza che rende i parti sempre più complessi Considerando che oggi la donna che partorisce Per la prima volta ha un'età media di 32 anni Abbassando l'indice di fertilità Ha 1,26 figli per famiglia Figli che devono essere sempre perfetti Secondo i canoni dettati dalla società Anche la crescita di un figlio Non è la crescita dal punto solo di vista della salute Ma di fargli ottenere dai primi mesi di vita I primi anni Tutte quelle cose che secondo me sono superflue Perché è un modo di fare Che aumenta i costi delle famiglie Per cui allevare anche figli in questo modo Praticamente rappresenta anche una spesa E questa spesa praticamente oggi non può essere supportata Quello che è bello Che abbiamo fatto insieme E che voglio Ci tengo a dirlo a tutta la cittadinanza È che stiamo offrendo alle donne Possibilità di partorire In entrambi i presidi In modalità anche libera Anche utilizzando il part in acqua Questo sul presidio di Pesaro Utilizzando il parto in posizioni alternative Su entrambi i presidi E chiaramente avendo anche una buona diagnosi prenatale Quello per cui diciamo Ormai siamo arrivati ad essere molto bravi Integrandoci con i nostri anestesisti Che sono tutti chiaramente eccellenti Stiamo garantendo la parto analgesia H24 su entrambi i presidi Con un livello assistenziale direi ottimo E per questo mi sento soddisfatta Quello che mi dispiace purtroppo E che le donne sempre di più giungono A raggiungere la prima gravidanza In età avanzata Chiaramente questo determina Un alto rischio Un aumento del rischio Che è fisiologico Bene, hanno destato Pareri contrastanti Parliamo dei lavori al pincio Tra pro e contro Tra chi giustamente Non era d'accordo con i disagi A cui inevitabilmente si sarebbe andato incontro Però indiscutibilmente a lavori ultimati Ci sarà un colpo d'occhio Veramente molto bello Di uno dei punti più caratteristici E significativi dal punto di vista storico Della città di Fano In questi giorni ci sono stati anche Dei cambiamenti della viabilità Proprio per accedere alle zone interne Sentiamo quali sono Dall'assessore Cristian Fanesi Allora il pincio Qual è lo stato dell'arte In questo momento Sono partite anche Le visite È un punto Con la scadenza del carnevale vicina Che insomma Che desta un po' di preoccupazione Sì Desta preoccupazione Perché ovviamente Quando si fanno dei lavori Così invasivi In un'area così grande E molto trafficata Di biciclette Pedoni Con dei negozi È chiaro che I disagi ci sono Cioè questo però È anche inevitabile Fa parte Del lavoro Di riqualificazione Di un'area Che comunque noi riteniamo Molto importante E indispensabile Per questa città Che dà valore Alla città Ma anche a chi ci abita vicino Quindi su questo Siamo certi Che qualche disagio Ci sia stato Ci sarà Ancora per qualche giorno Ma siamo sicuri Che riverrà Una zona Riqualificata Bellissima E alcune cose Si riescono già a vedere I lavori stanno proseguendo In questo momento Per selciare La parte di strada Che c'è Tra l'arco d'Augusto E i negozi Verso Porta Maggiore Dove Non siamo ancora intervenuti Abbiamo chiuso Abbiamo transennato Quindi i pedoni ciclisti Possono passare Per via Montevecchio Attraverso via Guido del Cassero E ritornare Comunque a usare Per andare verso il Pincio Via Saffi Abbiamo dovuto chiudere Perché i lavori Ci imponevano questo Speriamo nel bel tempo Che possa tenere Per cui Crediamo che Nel giro di una settimana Io direi Non di più O comunque Appena possibile Riapriremo E comunque Indicativamente La ditta Ci ha detto Una settimana di lavoro Potremmo riaprire definitivamente E far transitare Come prima Ciclisti e pedoni Una cosa molto particolare Che anche per il carnevale Durante questo periodo La zona invece Sotto il largo di Porta Maggiore Che è quella Interessata dagli scavi Dove non era mai intervenuto Almeno in tempi recenti Diciamo La mano dell'uomo Quindi ha uno stato Le cose sono state mantenute Come erano così E quindi sono emersi Le ritrovamenti medievali Di grande interesse Ce lo dice La sovrintendenza I beni archeologici E quindi abbiamo deciso Di lasciare aperto Ma abbiamo deciso anche Di poter dare la possibilità Ai curiosi A chi si iscrive ovviamente Perché non è possibile Farlo per tutti Fare delle visite guidate Con gli archeologhi Che hanno studiato l'aria E hanno fatto gli scavi A mano Pulito Liberato E anche quei tunnel Che abbiamo trovato Per cui Credo che sia una cosa interessante Interessantissima Per chi è appassionato Ma anche chi vuole Solo curiosare Bisogna iscriversi Ovviamente non ci si può andare Però le visite Sono gratuite Fatte dalla sovrintendenza Dalla società Che gestisce Gli scavi archeologici Per la sovrintendenza E dal comune di Fano E crediamo di aver fatto Un buon servizio I cittadini Che vorranno Con interesse Partecipare Bene Quindi quest'area È interessata Da questo restauro Così massivo Dopo Il grande restauro Che fu fatto Nei giardini Roma Negli anni Trenta E per questa appunto Occasione così speciale L'avete sentito Annunciato Dalle parole Dell'assessore Che il comune di Fano Assieme alla sovrintendenza E allo studio Tecne SRL Offra tutta la cittadinanza E anche alle scuole Di ogni ordine e grado La possibilità Di vedere Questi scavi E di visitarli Assieme appunto Alle archeologhe Le visite Le visite saranno Della durata Di 45 minuti E saranno Organizzate Per le scuole Dal 14 gennaio Al 15 febbraio Dove verranno Ospitate Due classi Per turno Mentre per la cittadinanza Arriveranno a disposizione Più giorni Alle ore 15 Del giovedì 17 Del giovedì 31 gennaio E poi di giovedì 14 febbraio E alle 11 Dei giorni di sabato 26 gennaio Sabato 2 febbraio E sabato 16 febbraio Le visite Per tutti i cittadini Si attiveranno Con un minimo Di 10 prenotati A visita E' obbligatoria Naturalmente Va da sé La prenotazione E bisogna inviare Una mail A fabiola Punto Tonelli Chiocciolacomune Puntofano Punto 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 It O telefonare Al numero 0721 88 72 17 Oppure 88 7 7 3 7 E quindi Questo è il numero Al quale dovete telefonare Per prenotarvi Per queste visite Così dal punto di vista storico E culturale Interessanti Bene Cambiamo argomento E andiamo sempre In ambito Comunale Perché questa sera Ci sarà E' in corso Tra l'altro Nel momento in cui Stiamo andando in onda Un consiglio comunale Topico Importante Dal punto di vista Della sanità Perché arriva una delibera Che riguarda L'edificazione Nella zona di Chiaruccia Della clinica Privata Sentiamo I termini Di questa questione E' stato E continuerà ad essere Anche per questa tornata Elettorale Il tema centrale Sul quale si scontreranno I tre candidati a sindaco Per la città di Fano Alle prossime elezioni di maggio Piano sanitario regionale Destino del Santa Croce Ospedale unico A Muraglia Le opposizioni Attaccano Lancia in resta Il sindaco Seri Anche per la scelta Di far costruire a Fano Una clinica privata Convenzionata Stile Cotignola Recriminandola Come un barattolo Con Ceriscioli Per dire sì All'ospedale unico Provinciale Mentre il primo cittadino Invece rivendica La giustezza Di questa decisione Come appropriata Ed opportuna Per la città di Fano Che così avrebbe Due strutture Anziché una D'Ugustis Meglie che One Recitava uno spot Pubblicitario Ormai divenuto Un cult Ma propaganda A parte Sta di fatto Che questa sera Va in scena In consiglio comunale Un passaggio chiave Di questa vicenda Ovvero Si vota Un atto amministrativo Propedeutico Alla realizzazione Di una struttura Sanitaria privata Nella zona Di Chiaruccia Si tratta Di un primo passo Consistente In una delibera Contenente Una variante Di destinazione D'uso Dell'area Individuata Per la sua realizzazione Questa è la superficie Di 4 ettari Sulla quale Dovrà essere edificata La clinica La struttura Sanitaria privata Area edificabile 10.000 metri quadri Quindi tutto il rimanente Sarà parcheggio E verde pubblico Mentre dall'altra parte Della strada Di via Campanella Esattamente alle mie spalle In maniera speculare Sorgerà la nuova caserma Dei Vigili del Fuoco Se la clinica privata A tempi draconiani Decisamente dovrebbe essere Per la nuova caserma Dei Vigili del Fuoco 6.500 metri quadrati Di lottizzazione Per una superficie Complessiva dello stabile Di 1.000 metri quadrati Davanti verrà realizzato Un ampio piazzale Ed una moderna autorimessa La parte abitativa Inoltre sarà su due livelli E potrà ospitare 36 Vigili del Fuoco Il costo Di quasi 2 milioni di euro È interamente finanziato Dal Ministero dell'Interno Col quale sono stati effettuati Tutti i passaggi necessari Da parte del Comune Compresa l'accessione Del diritto di superficie Al demanio Ora il progetto esecutivo Deve ricevere La vidimazione Della Regione E se tutto va bene A settimane Si potrà indire il bando Per la sua realizzazione Bene Cambiamo tono E tenore di notizia Perché si svolgerà Domenica 13 gennaio La tradizionale La tradizionale Immancabile benedizione Degli animali Mentre verso le 11 e 30 La tradizionale benedizione Di tutti gli animali Di tutti gli animali presenti Bene Quindi amici Che volete bene agli animali O che avete animali in casa Segnatevi questa data Ma sicuramente voi La conoscerete molto bene Adesso vi do una notizia Sapete che lunedì Non è andato In onda primo cittadino Per motivi di salute Del diretto interessato Il sindaco Massimo Seri E quindi In via eccezionale Domani sera A seguire il telegiornale Ci sarà appunto Massimo Seri Sindaco di Fano Per primo cittadino Per intervenire in diretta Come sempre Ormai lo dovreste Ben conoscere La modalità È quella di intervenire Telefonicamente Prenotandosi allo 0721 861433 Oppure potete inviare Domande Osservazioni O quesiti Al sindaco Seri Attraverso sms O whatsapp Attraverso il 338 4968 250 Bene Siamo in chiusura Di telegiornale Come sempre Vi ricordo Quello che accadrà Dopo di noi Dopo il telegiornale Ci sarà naturalmente Ormai L'imperdibile appuntamento Con che tempo farà E lo scuinternato Colonnello Flavio Vento Ed i comici Del San Costanzo Show Ricordo che le Prenotazioni però Sono veritiere E dopo ci sarà Guarda chi c'è Un altro appuntamento E poi uno speciale Un integrale Su passaggi festival Che si è tenuto Quest'estate A Fano Un integrale Appunto Una ripresa integrale Questo è il numero In sovrimpressione 38 4968 250 Che potete utilizzare Per entrare in contatto Con la nostra redazione O per segnalarci Quello che ritenete opportuno Bene Io mi fermo qui Grazie per essere stati In nostra compagnia Ad aver preferito La nostra informazione Che torna domani mattina Alle 7.30 Con occhio ai giornali Buona serata A tutti voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.